Si parla in questo video, signori, dello sfogo da parte di Milli Carlucci, ma capiamo il perché, cioè perché c'è stato questo sfogo. Innanzitutto parto con il dire che la conduttrice del cantante mascherato, certo, non è che le manda a dire. Questa anche perché si è andata a creare una situazione che tra l'altro è sorta proprio nelle ultime ore, che avrebbe fatto andare la VIP su tutte le fori, ma soltanto una sua parola poteva mettere a tacere tutte queste strane voci che ormai stavano circolando e non si fermavano più. Infatti così è stato perché Milli ha deciso di parlare in maniera aperta, chiarendo una volta per tutte la questione, come si dice, mettendo chiaramente i puntini su lei. Il duro sfogo di Milli Carlucci. La conduttrice decide di mettere a tacere le voci sulla trasmissione attraverso il profilo Twitter. Il cantante mascherato non è stato cancellato e sabato andiamo in onda. Nelle ultime ore infatti è stato diffuso un rumor sulla presunta cancellazione del programma dovuta ai bassi ascolti a fronte dei costi elevati. Nulla di vero dunque. Con un video, Milli Carlucci decide di metterci la faccia e sottolineare che le sorti del programma non sono quelle vociferate. Eccomi qua, per rassicurare tutti quanti che sabato sera noi del cantante mascherato ci siamo. Lo dico perché sono stata subissata di telefonate, di contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta. Ci siamo. Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Le parole di Milli fanno subito il giro del web e la conduttrice ribadisce. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo. La nostra strada è difficile. D'altra parte la rete ci ha chiesto di mettere le fondamenta di una nuova presenza di un programma di varietà, diciamo varietà tra virgolette, nel sabato sera di Rai 1 in primavera. Mancava un'offerta continuativa dal 2019, quindi adesso pian piano si ricomincia con grande umiltà e con grande fatica, naturalmente. Noi accettiamo qualunque tipo di controversia, di critica, negativa, ustionante, ingiusta. Va tutto bene finché si tratta di opinioni. Quello che non si può accettare naturalmente sono le fake news, perché quando una notizia falsa minaccia il lavoro di un gruppo, il nostro come qualunque altro gruppo, non può essere accettata, perché veramente è un danno alla rete, al gruppo di lavoro, all'azienda, eccetera. E ancora, e qui noi stiamo lavorando seriamente come tutti quelli che fanno questo mestiere. E siccome una notizia falsa può essere anche motivo di controversia legale, direi teniamoci lontani dalle notizie false. Ci vediamo sabato. Un bacione e buon divertimento. Uno share che sicuramente ha dovuto fare i conti con un altro colosso televisivo, ovvero Maria De Filippi, ma che il programma di Millie continua a difendere da duri attacchi come quello ricevuto di recente, ma di fronte al quale la conduttrice non abbassa di certo la testa. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like, e se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, oppure seguite la pagina, oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip, tv, spettacolo, politica, sport, curiosità, e tanto altro. E se volete, potete trovarmi anche sul format di intrattenimento, basta cercare Gratta e Vinci con Max, e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci, tanto pago io, che befrega. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.